Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal centro missionario internazionale di Krefeld in Germania. Noi lodiamo Dio per questo ultimo fine settimana perché siamo stati benedetti in modo straordinario. Più di 1200 persone erano riunite qui nel centro missionario da tutta l'Europa, dall'Africa, dal Canada, dagli Stati Uniti e il Signore ci ha dato le sue parole e ci ha benedetti immensamente. Siamo grati per questa opportunità di condividere la parola originale di Dio, non delle interpretazioni né delle spiegazioni, ma semplicemente la parola di Dio. E noi ci rendiamo conto dell'importanza del mandato divino dato al nostro caro fratello William Branham che il messaggio che gli era stato dato avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. E cari, l'ho detto molte volte, qualunque cosa Dio decida, noi non abbiamo alcuna influenza. Nessun profeta ha mai deciso che il Signore avrebbe dovuto chiamarlo o mandarlo. Quando Dio decide di fare qualcosa e la fa, noi dobbiamo rispettarlo e noi lo diciamo e lo ripetiamo sempre. Alla prima venuta di Cristo c'era un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio per il popolo di Dio, per preparare la via al Signore. E poi Luca capitolo 16 versetto 16, la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni e da quel tempo è annunziato il regno di Dio e tutto ciò che concerne il regno di Dio. Allo stesso modo nel nostro tempo le profezie sono state fino a William Branham, l'uomo di Dio che sarebbe venuto prima del grande e terribile giorno del Signore. Ed è il così dice il Signore. Io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ed egli volgerà, egli volgerà. Questo è il punto principale. Egli volgerà attraverso e per mezzo del suo messaggio, egli volgerà i cuori, non le teste, i cuori. Li ricondurrà a Dio, li ricondurrà alla parola, li ricondurrà agli insegnamenti originali degli apostoli. Adesso, alla fine del tempo della grazia, dobbiamo essere riportati al fondamento originale. Agli insegnamenti originali degli apostoli. Il nostro Signore è il medesimo che era all'inizio ed è il medesimo alla fine. L'alfa e l'omega. Ora, brevemente, veniamo al nostro tempo. Ed io devo essere molto schietto e spero di essere molto breve. Quando il fratello Branham fu chiamato al ministero, nel 1933, ricevette un grande incarico. Il 7 maggio 1946, ricevette il mandato divino. Come Mosè fu inviato e gli furono dati due segni, due segni sono dati a te. Voi tutti siete a conoscenza di questo e, cari, William Branham, ha avuto un servizio e un ministero evangelistico in dodici nazioni. E poi giunse un giorno speciale in cui egli fece l'annuncio, il primo aprile 1962. 1962. Io devo ritornare a Jeffersonville a motivo di una visione e devo immagazzinare il cibo. il primo aprile 1962. E il 2 aprile, qui, nella città di Krefeld, lo stesso signore, con una straordinaria voce odibile, mi parlò, dicendomi che il mio tempo per questa città in breve sarebbe terminato ed egli mi avrebbe mandato in altre città a predicare la sua parola. E la cosa successiva fu di immagazzinare il cibo. E, cari, non ho bisogno di entrare nei dettagli. Ma dopo l'apertura dei sette sugelli, nel marzo 1963, il fratello Branham non ha mai più predicato in un'altra nazione, non ha mai portato il messaggio in una nazione sulla terra. No. Cosa è accaduto? Egli ha portato il messaggio, e il messaggio era per precedere la seconda venuta di Cristo. E perciò, dopo che il fratello Branham fu portato nella gloria, tramite un mandato divino, ho portato il messaggio a 172 nazioni in 55 anni a motivo di un mandato divino che mi è stato dato e che è stato confermato il 3 dicembre 1962 alla presenza di due testimoni ed è stato confermato dal servitore profeta di Dio il quale ha ripetuto le parole che il Signore mi aveva detto e poi dicendomi fratello Frank, aspetta con la distribuzione del cibo finché non avrai ricevuto il resto del cibo. Egli non ha mai detto cessa di predicare la parola. No. Io ho predicato la parola tutto il tempo ma poi poi ho distribuito il cibo e a voi tutti vi mostro di nuovo tutti i sermoni che ha predicato William Branham mi sono stati mandati negli anni 50 e negli anni 60. Il fratello Frank ha ascoltato ogni sermone due volte. Se c'è un uomo sulla terra che conosce il messaggio è il fratello Frank e potete vedere quest'altra foto ho tradotto i sermoni del fratello Branham in lingua tedesca. Cari, io ho fatto ciò che il Signore mi ha chiamato a fare e quindi il tempo è giunto per dire onestamente ma anche per sottolineare che è giunto il momento di fermare tutti i falsi insegnamenti e ritornare alla parola di Dio. Cari, cosa vediamo oggi? In una città ci sono tre, quattro differenti chiese che affermano di seguire il profeta che affermano di credere il messaggio in altre città ci sono otto, nove, dieci differenti chiese che affermano di seguire il profeta di credere il profeta di credere il messaggio dimenticatelo, dimenticatelo per sempre voi tutti siete forviati e forviate la gente nei giorni della Bibbia c'era una chiesa in una città e Dio stabiliva in quella chiesa i differenti ministeri e così sarà alla fine e per essere sincero se esaminate cosa insegnano questi fratelli spiegano ciò che il fratello Branham ha detto voi dovete predicare la parola di Dio e lasciare ogni sermone nel modo in cui è stato predicato senza prendere delle dichiarazioni fuori dal contesto ma lasciarle lasciarle così perché il fratello Franke non ha nessun problema con nessuno dei messaggi predicati da William Branham a motivo del mandato divino ed io riporto nella parola di Dio tutto ciò che ha detto il fratello Branham e poi un'altra affermazione del fratello Branham non accettate mai qualcosa a meno che sia scritta nelle scritture cari è qualcosa di molto serio e poi 150 volte William Branham si è riferito ad Apocalisse capitolo 22 gli ultimi versetti se alcuna aggiunge o toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia la sua parte sarà tolta dal libro della vita è giunto il momento di richiamare la vera sposa che è uscita fuori dal passo e riportarla al passo in accordo con la santa parola di Dio un'altra domanda prima di concludere vi aspettate che tutti questi gruppi saranno alla cena delle nozze qui non si conoscono gli uni gli altri non prendono la cena del Signore insieme ognuno è per conto suo e nel cielo vi aspettate che loro saranno alla cena delle nozze dimenticatelo per sempre loro camminano nelle proprie vie hanno il proprio piano i propri insegnamenti e le persone li seguono noi seguiamo Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore e siamo grati al Dio Onnipotente per aver mandato il suo servitore profeta per riportarci per riportarci a Dio per riportarci alla parola di Dio e sono riconoscente che posso guardare indietro a 55 anni nel ministero in 172 paesi e adesso e adesso abbiamo anche tutte le stazioni televisive su tutta la terra e condividiamo la preziosa e santa parola di Dio Maranata il nostro Signore verrà in breve molto molto presto la tromba suonerà e noi saremo nella gloria per sempre Dio vi benedica nel nome santo di Gesù amén